La realizzazione del Palademas 2 non fa gola alle imprese di costruzione perché il budget a disposizione non è capiente per coprire i costi dei materiali che da circa un anno sono saliti alle stelle. A Palazzo Rosso non ci si dà pace alla scadenza dei termini fissati dal bando di gara per costruire il nuovo palazzetto al Foro Boario destinato alla ginnastica, alla scherma e alle arti marziali. Nessuna impresa ha presentato la propria offerta alla stazione unica paltante di Vicenza. Nel mondo dei lavori pubblici i prezzi sono assolutamente saliti a livello simile. Noi nei nostri bandi applichiamo il prezzario 2019, adesso è uscito il prezzario 2022. Sta di fatto però che i soldi sono quelli del 2021 quindi non ci stiamo assolutamente dentro. Ciò che i sindaci stanno chiedendo a gran voce è che i fondi per la rigenerazione urbana 1 e 2 per i bandi inglobati dal PNRR possono avere un aumento di almeno il 20% della disponibilità economica. A viceversa questa è una delle tante gare che andrà a deserta perché le imprese non possono fare beneficenza. Tra l'altro il codice degli appalti prevede un utile per l'impresa che opera nel settore dei lavori pubblici ma viva Dio hanno ragione loro di non partecipare perché i bandi sono ovviamente risicati negli importi. La strada imboccata non è percorribile afferma l'assessore Roccon. Quello che chiediamo è che questa disponibilità dei soldi che ci sono e che devono essere rendi contati all'Europa vengano spalmati nei progetti che ci sono. I tempi stringono. Entro luglio le gare che attingono ai fondi PNRR devono essere concluse per il De Mas 2 Palazzo Rosso a disposizione 1 milione e mezzo di euro. Ora tocca rivedere il progetto e la disponibilità oltre i 150 mila euro ottenuti grazie all'accensione di un mutuo. Se lo Stato non prevede un incremento purtroppo dovremo rinunciare ma avendo già pagato la progettazione. L'assessore Roccon è fiducioso che si possa trovare una soluzione. Quanto al nuovo bando per il Nevegal? È una questione di ore la pubblicazione di questo bando che ha avuto una riduzione nei parametri di accesso e quindi ha aperto la platea dei soggetti che possano partecipare. Altri anche lì sono fiducioso che la cosa possa trovare riscontro ovviamente dentro i primi di maggio.